Ciao ragazzi, oggi sono qui perché voglio darvi tre informazioni importanti che forse non sapete sulle stampanti 3D. Ho voluto fare questo video perché molti sono in dubbio se acquistare una stampante 3D o meno e voglio quindi riportarvi tre cose importanti che dovreste assolutamente sapere che ho provato sulla mia pelle. Prima di tutto sono le dimensioni e i costi. Per quanto riguarda le dimensioni, a seconda della stampante 3D che acquistate, vi ricordo che avete bisogno di moltissimo spazio. Almeno nel mio caso, in questa CR10, ho bisogno non solo dello spazio di tutta la struttura ma anche dell'unità che controlla la stampante 3D che è abbastanza grande. Come vedete nel mio caso, praticamente sulla superficie vado ben 80 cm x 70 cm e sulla parte superiore ben 70 cm. Quindi immaginate, questa è comunque una stampante, una delle più grandi che troviamo su Gearbest economiche, però immaginate comunque che avete bisogno di uno spazio morto, angolo morto fisso perché è un prodotto che non potete smontare e rimontare ma dovete tenere fisso. Quindi prima di acquistarla valutate bene se avete dello spazio in casa perché magari dopo il primo acquisto potreste venderla sicuramente perché la questione di dimensione non è un fattore da sottovalutare, soprattutto per chi non ha una casa grandissima. Un'altra cosa sono i costi. Queste stampanti costano tanto, cioè abbiamo i prodotti da 180 dollari, 200 dollari ma se vogliamo un po' salire di qualità possiamo spenderne anche 4-500 se non di più. Inoltre un altro costo frequente è il filamento perché il filamento viene venduto di solito o a metri o a chili e un filamento ad esempio da 400 metri costa comunque 20-30 euro. È vero che dura abbastanza e possiamo fare tante cose però mettetelo in conto come spesa. Quindi una stampante 3D ha un costo sicuramente non basso. Mettete anche eventuali problemi, magari qualche malfunzionamento qual cuscinetto che si usura o qualcosa. Queste vabbè sono spese minime però dovete comunque tenere in conto che utilizzare una stampante 3D e stampare le cose chiede una spesa. Un altro fattore importante è la difficoltà e la conoscenza di questi prodotti perché non è una semplice stampante 2D cioè che andiamo a installare plug and play, installiamo i driver ed è fatta. No, perché la stampante 3D ha bisogno di conoscenza, più accortenza quindi dobbiamo imparare a conoscerla e soprattutto vi ricordo che la prima installazione almeno quando non avete le illustrazioni cioè quando non avete le istruzioni è davvero complicata montarla. Quando è preassemblata non tanto ma quando è smontata a zero e dovete montarla è un bel casino. Inoltre quando andate a stampare un oggetto dovete tener conto di tantissimi fattori bisogna tener conto della temperatura del piatto quindi della superficie dove la stampante andrà a stampare bisogna tener conto della temperatura dell'ugello che andrà a sciogliere il filamento bisogna tener conto del layer, della densità di come si va a riempire le parti interne perché ovviamente la stampante non è che stampa pieno non avrebbe neanche senso, non sarebbe ottimizzata. Quindi bisogna conoscerla bene ma se avete la volontà, se avete la voglia comunque con il tempo, leggendo sui forum vedendo video eccetera anche facendo esperienze sicuramente con il tempo riuscirete ad utilizzarla perfettamente però non dovete arrabbiarvi o bestemmiare se le prime dieci stampe andranno male o quello che vi uscirà appunto sarà difettoso. Un altro fattore importante è la qualità di stampa e soprattutto il tempo di stampa cioè non aspettatevi di stampare per esempio un prodotto del genere questo è un cubo da 6 cm circa di stamparlo in 5 minuti, 10 minuti, 20 minuti cioè io per stampare questo cubo che all'interno ne ho anche avuto quindi praticamente questo è uno scatolino ci ho messo all'incirca 1 ora e 40 e credetemi che questo modello che vedete qui dietro non è neanche molto lento l'ho stampato anche con una densità molto bassa quindi qualitativamente non è neanche il top parliamo infine della qualità di stampa la qualità di stampa è anche vero che è influita da tantissime cose tra cui la stampante, i settaggi giusti, la temperatura, la qualità del filamento eccetera però vi ricordo che non avrete mai dei prodotti perfettamente precisi cioè se voi volete stampare un action figure non sarà mai magari come un action figure comprata quindi valutate anche questo per esempio come vedete questo oggettino qui che ho stampato presenta appunto dei piccoli difetti e soprattutto la superficie appare rubosa però grattandolo con carta abrasiva quindi affinarlo e verniciarlo praticamente la qualità migliora notevolmente bene per ora questo è tutto voglio darvi un altro consiglio prima di acquistarlo vi ricordo che queste stampanti di fascia bassa quindi accessibili a noi sono a singolo filamento quindi non avete la possibilità di stampare un prodotto già bicolore, tricolore eccetera perché la maggior parte di queste stampanti sono a singolo filamento quindi o la fate di un determinato colore ti consiglio il bianco perché poi potete verniciarlo o acquistate direttamente il colore interessato quindi se volete fare una maschera nera acquistate magari direttamente il filamento nero per ora questo è tutto se il video vi è stato d'aiuto e lo avete gradito vi prego di lasciare un mi piace e di condividerlo con i vostri amici noi ci vediamo al prossimo video sicuramente ci saranno altri video sulla stampante 3D perché è uno dei prodotti più interessanti che abbia mai provato un saluto a tutti e alla prossima ciao 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 ciao